Un altro assalto in villa sulle colline tra Monterchi e Citerna, dunque in Valtiberina, è stato messo a segno nell'abitazione di Fabio Festini, noto imprenditore monterchiese in località Palazzina. I ladri hanno messo a suo quadro l'abitazione, hanno distrutto il sistema di allarme e hanno divelto la cassaforte portando la via avvolta nel piumino da letto dei due coniugi. Loro erano usciti di casa intorno alle 18 e 15 di domenica scorsa per andare a cena fuori da alcuni parenti. Alle 21 circa, al loro rientro, la mara sorpresa. Siamo usciti con mia moglie verso le 18 e 15, afferma lo stesso Festini, al microfono dell'emittente Tevere TV. E siamo rimasti fuori a cena. Al ritorno abbiamo notato i vasi dei fiori all'esterno per terra e quando siamo entrati in casa abbiamo fatto la mara scoperta. Una banda di ladri era entrata all'interno. Sono salito al piano superiore e la cassaforte era stata scardinata. Per portarla via hanno usato il piumone trascinandola per le scale, in pietra tra l'altro distruggendo anche gli scalini. Sul caso indagano i carabinieri di Monterchi.